Tutti coloro che hanno seguito il Grande Fratello VIP questa edizione numero 7 sanno che i più accaniti, i fan più accaniti che seguono Oriana Marzoli, Micolin Corvaia e Gaeli Dedonà hanno ribattezzato le tre, chiamandole OMG, che poi sono le iniziali dei nomi. E per la loro gioia adesso il trio nato dalla casa più spiata d'Italia torna in qualche modo a far parlare di sé. La riflettori spenti continua e questo sicuramente ci fa piacere perché ci dà l'impressione che ci sia qualche sentimento, qualche cosa di veramente vero, di veramente vero. Comunque da poco hanno per esempio svelato di farsi presto un tatuaggio insieme, quindi anche un simbolo. Non è ancora successo ma intanto la notizia era arrivata a Mondo Social durante una diretta di Gaeli Dedonà e suo fratello Mattias. Ah ragazzi le OMG si faranno un tatuaggio insieme. Ve lo anticipo già adesso, le parole dell'influencer. E quando il fratello ha chiesto quale tipo di tatuaggio si faranno lei, Oriana Marzoli e Micolin Corvaia, ma lo ha bloccato prima che potesse rispondere. Insomma, il tipo di disegno non è ancora dato da sapere ma scommettiamo che, a maggior ragione dopo l'ultimo annuncio, non tarderà ad arrivare. Non solo, Oriana Marzoli, Micolin Corvaia e Gaeli Dedonà si sono riviste anche per il party a Roma dopo il GF VIP. I fan sono letteralmente impazziti quando le hanno riviste tutte insieme, come ai tempi della casa. Ora, come anticipato, un'altra novità. Nelle loro ultime Instagram Stories, le OMG hanno dato un grande annuncio. Hanno raccontato che si stanno dedicando a un progetto che farà impazzire tutti i rispettivi follower. Per questo motivo, per questo famoso progetto in corso, tutte e tre hanno confermato di essere sparite dai radar per l'intera giornata. Nessuna informazione certa da Oriana Marzoli e le sue amiche, ma Gaeli Dedonà si è lasciata sfuggire qualche dettaglio in più. Sono sparita tutto il giorno ma ho passato la giornata con Micol e Oriana per preparare un nuovo progetto che uscirà a breve. Finalmente vi posso anticipare questa cosa. Siamo state tutto il giorno in ufficio da Mia Bega a lavorare per voi. Sono troppo contenta. Stiamo facendo una cosa bellissima, ha raccontato. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.